Venite di sopra, tutti a ballare. Ho organizzato una festa. Venite con me! Venite, ragazzi! Avanti! Ho deciso che oggi dobbiamo divertirci. Dovunque il nemico riesca ad arrivare, dovrà trovare soltanto terra bruciata. È una condanna a morte per il popolo tedesco. Senza elettricità, senza gas, acqua corrente, carbone, trasporti, senza ferrovie, canali, moli, dighe e locomotive, perché vuole distruggere tutto? Il nostro paese ritornerà nel Medioevo. Con questo ordine toglie al popolo qualunque possibilità di sopravvivenza. Se perderemo la guerra avrà poca importanza che scompaia anche il popolo tedesco. Nel momento attuale non ha senso farsi scrupolo di non distruggere quello che serve ad assicurare la sopravvivenza alla popolazione civile. Al contrario, è giusto che noi stessi distruggiamo tutto. Questo popolo si è dimostrato un popolo debole ed è una precisa legge di natura che tutte le creature più deboli siano destinate a scomparire. Ma è il suo popolo. Lei è il Führer. Quelli che sopravviveranno a questa guerra saranno gli individui peggiori, poiché i migliori sono già tutti caduti. Balli con lui. Oh, ma cosa falli seduta? È obbligatorio ballare. Vi concede l'onore, signorina Brown. Con gran piacere. Salute. Alla nostra. Vuole scusarmi? Certo. Che cosa c'è? Dobbiamo andarcene da Berlino, Eva. Devi convincerlo. Vieni via almeno tu. Eva. Morirai. Fate ricominciare la musica. Ho voglia di ballare. Ci penso io. Voglio ballare. Gradisce qualcosa in particolare? Uno swing. Ho voglia di ballare. 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 Ma che cos'è? È tutto così irreale. È come un incubo, di cui vorresti tanto liberarti, ma non ci riesci. E continua, va avanti. Ancerta, sto male di stomaco. Ancerta, sto male di stomaco.